Diretti d'autore La cantante è in vacanza con le amiche e sembra divertirsi molto Non c'è Justin Bieber, con cui sarebbe di nuovo crisi I due si erano riavvicinati negli ultimi mesi Ma il ritorno di fiamma non decolla Crema solare e tanto relax È la ricetta d'inizio primavera di Selena Gomez Avvistata su uno yacht di lusso a largo del porto di Sydney Un break australiano per la cantante Che dopo i problemi di salute che l'hanno costretta a un trapianto di rene Donato dall'amica Francia Raisa è tornata ai sorrisi E sono proprio le amiche a scortarla in vacanza Garanzia di un sano divertimento Manca Justin Bieber con cui dopo anni di tira e molla Negli ultimi mesi si era prospettato un lieto fine da favola Top stories, stanno di nuovo insieme Vociperavano i bene informati a inizio 2018 Resto avvalorati da una serie di scatti che ritraevano i due cantanti affiatati Poi la pausa, di nuovo Motivi restano un mistero Disaccordi, ha rivelato un insider a People Ma non così importanti da escludere l'ennesima reunion La madre di Selena non approva Questo è certo Ma non centrerebbe con la decisione della figlia Una storia complicata ma difficile da archiviare La prima importante per entrambi Tra un ritorno di fiamma e una frecciatina social Altri amori, ma nessuno è qui parabile I fan sognano un altro lieto fine Che sia definitivo, però On social La prima parte per entrambi Grazie.